Esenzione dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive, dall'imposta municipale, desonero del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Sono questi gli sgravi previsti per le aziende che faranno parte della zona franco-urbana del sisma del centro Italia. 770 in totale nelle province di L'Aquila, Pescara e Teramo. Il governo ha finanziato questa misura con 30.669.000 euro e ogni azienda beneficerà di una defiscalizzazione media di 39.830 euro. In totale per l'Abruzzo sono 23 i comuni del cratere sismico che beneficeranno della zona franco-urbana. Presidente, cosa significa per l'Abruzzo la zona franco-urbana e che cosa significa per le imprese questa defiscalizzazione? Significa un valore economico risparmiato di 39.000 euro cada uno di ciascuna delle 770 imprese che hanno fatto domanda rispetto ai 23 comuni del cratere sismico, determinando un risparmio sul piano della defiscalizzazione pari a 30.669.000 euro. È la prima volta che un cratere sismico ha una copertura normativa defiscalizzante di questa natura, di questa certezza, che porta a questo livello di flessibilità fiscale e di sospensione, di ritiro di obbligo fiscale. Secondo lei questa misura che adesso vale per l'area del cratere può essere stesa anche a altri territori che pure ne avevano fatto richiesta in passato? Assolutamente no. Ad oggi ed è bene non determinare illusioni. Con la vita del nuovo Parlamento io mi auguro che il nuovo Parlamento sia fruttuoso come l'ultimo Parlamento. Mi aspetto che il Parlamento continui ad occuparsi dei problemi del territorio evitando che nascano degli assunti in Parlamento ma si insedino dei parlamentari capaci di fare leggi su misura dei problemi del territorio.